Ci sono ragioni di sicurezza sanitaria ma anche ragioni tecnico-organizzative che destano molte preoccupazioni, si legge, non soltanto nel mondo della scuola ma anche fra i medici. Ci sono pareri contrastanti sul tema della sicurezza sanitaria. Non possiamo avere la certezza che la situazione sia davvero sotto controllo. La lettera è scritta da una docente del liceo classico Garibaldi, Chiara Insiga, e da una pediatra dell'ospedale dei bambini, Maria Cristina Maggio e in poche ore ha raccolto adesioni anche nel resto d'Italia. Parte da Palermo la protesta dei docenti contro l'ipotesi del Ministero dell'Istruzione di svolgere in classe la prova orale dell'esame di maturità. Non tutti d'accordo però. Se l'andamento della diffusione del virus lo consente, dice alla Repubblica Vitolo Scrudato, preside del liceo classico Umberto I, gli esami in presenza, scaionando le presenze, si possono fare. L'esame di Stato è una sorta di rito che a distanza perderebbe il suo valore. Già il percorso è stato mutilato dall'emergenza, almeno con i dovuti accorgimenti, si salvi l'orale. Accoglie la proposta del Ministero anche Vito Pecoraro, dirigente dell'alberghiero Piazza. In un'aula ci saranno al massimo nove persone, dice, con la distanza di sicurezza e i dispositivi. La cosa è fattibile, gli esami poi saranno a fine giugno, c'è ancora tempo, saranno gli scienziati a decidere. Giuseppe Polizzi, preside del liceo scientifico Einstein, propone una via di mezzo. Didatticamente l'esame in presenza ha un valore diverso, dice, ma ci sono delle criticità, quindi si potrebbe per esempio fare partecipare parte della commissione da remoto e la stessa cosa si potrebbe fare con i ragazzi in modo da ridurre al minimo la presenza a scuola.